La rimodulazione dei detti di spesa per la sanità convenzionata in Campania bloccherà le prestazioni alla metà di ogni mese, costringendo i cittadini o a rinunciare alle cure o a pagarle interamente di tasca propria. Questo quanto prefigurano le associazioni che rappresentano i circa mille centri convenzionati della Regione, sulla scorta di quanto deciso dall'ente di Palazzo Santa Lucia. Già si sconta con la Spending Review una riduzione di finanziamenti di circa 100 milioni di euro l'anno, dice il responsabile nazionale sindacato dei radiologi privati a Carino. E sempre in ragione della Spending Review non è possibile spostare sulla sanità convenzionata fondi allocati in altri capitoli. Ma cosa è cambiato con l'introduzione del nuovo metodo? È cambiato che il metodo di ripartizione è un metodo cervellotico non solo ma basato sui fatturati storici 2020 e 2021 di tutte le strutture che sono la piena epoca Covid e quindi non sono assolutamente rappresentativi della realtà. Gli altri combatti della sanità, cliniche, fisioterapia, già da tempo hanno questo sistema. Ma innanzitutto tutto questo è avvenuto in epoca pre-Spending Review ed è la prima cosa. Ma poi la cosa è passata attraverso l'eliminazione di un contenzioso, cioè che è la mina vagante vera che può far saltare comunque il sistema. Attesa che le cliniche private in Campania sono 68, mentre invece gli incendi di fisioterapia saranno 150. Guardate che i convenzionati di tutte le altre discipline sono più di mille. Sbagliato il tempo e il modo di rimodulare la sanità convenzionata esterna, dice sempre Accarino. In un momento del genere l'essere vincolati dalla Spending Review è una cosa folle. Cioè con il Covid sono saltati tutti gli equilibri. Sono ospedali chiusi perché purtroppo non è gioco forza. Gli ospedali perché questo devi fare e non hai finanziamenti, non finanzi in maniera adeguata la convenzionata esterna, che è quello che in realtà dovrebbe sopprire, mi devi spiegare l'agenda dove deve andare. Ma per essere ancora più chiari c'è il rischio che mille centri convenzionati ogni metà mese dovranno chiedere... No, 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 non è un rischio, è una certezza. Arrivati a metà mese si devono fermare. Se lei vuole venire se ne parla il mese prossimo. Oppure bisogna pagare? Beh, questo è fuori di dubbio. Questo non lo davo per scontato. Purtroppo il pagante, non avendo nulla a che vedere con il sistema sanitario nazionale, può venire quando gli pare. Vi siete fatti un calcolo di quante persone rischiano di non avere esami, cure adeguate? Il 50% della popolazione.